Hanno scritto una lettera al presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, in rappresentanza di tutti i genitori dei ragazzi dell'ISIS Valdarno di San Giovanni, scuola interessata dai crolli, chiedendo chiarezza e rispetto. E denunciando poi che nei locali di via San Lorenzo ci sono classi al fereddo e lamentando di non aver ricevuto più notizie dall'amministrazione comunale dallo scorso 5 ottobre. I genitori poi entrano nel vivo della problematica, in merito alle reti di protezione, soluzione che la provincia ha scelto per ripristinare temporaneamente i locali del presso Marconi, non abbiamo ad oggi alcuna notizia di quanto dovranno rimanere e di quando verranno effettuati i lavori definitivi e di che tipo saranno. Poi un'ulteriore problematica che si inserisce nel quadro di una situazione non certo semplice. Ad oggi, con una temperatura di meno uno, nei locali di via San Lorenzo a San Giovanni Valdarno ci sono classi ancora con i riscaldamenti non funzionanti. Questa mattina le aule coinvolte sono gelide e molti ragazzi supportati dai genitori hanno deciso il loro malgrado di non entrare. Le vacanze sono prossime, aggiungono i genitori, e abbiamo ragione di temere che si cerchi di temporeggiare il più possibile in attesa del rientro degli studenti nel plesso Marconi, che dovrebbe avvenire, secondo indiscrezioni, nel mese di gennaio. Per tutti questi motivi i genitori si appellano al presidente della provincia per un tempestivo intervento per la risoluzione dei problemi.